Io... Ehm... Ma questo è da cala Ma che? 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 Ma avete portato i legali giusti che ha chiesto? Si? Qualche cosa, non so io qui con il verbo, non so Vedere 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 Ehm... Ehm... Ma... Un po' matto Mi sa che ha bevuto un po' di misericordia Ma anche nel canale di città Mi sa di sì, sa di sì Ma che lì? L'ha trovata ragazzi, l'ha trovata Che lì? Che cosa? Oddio Ma guarda Ma guarda un giocato Oh ma guarda un giocato Eh, io non ho chiesto un, anzi due Allora con la portata che cosa vuoi dire ragazzi Eeeh Pappa Natana può venire anche domani Domani, domani sono senza soldi Non sai che già domani Senza soldi Eeeh, finito tutto Senza tutto, senza soldi Stai domani Sì Ma sono tre i regali qui I bambini sono due Eeeh Questo papu Natale è buono Eeeh Eeeh Pappu Natale Pappu Natale Pappu Natale Pappu Natale Non è che lo va Camiglietto, va Ahahahah Sì